Atmosfera natalizia decisamente tesa a Dolmo, paese e frazione del comune di Arezzo, nel piazzale dove ci troviamo in questo momento di fronte alla chiesa. Due giorni fa c'è stato un acceso di verbio tra alcuni parrocchiani ed in particolar modo il presidente della giostra dei rioni, Roberto Parnetti, e appunto il parroco Don Adam. Tutto è accaduto tra l'altro proprio di fronte al presepe che era stato appena realizzato proprio qui di fronte alla chiesa. Tutto sarebbe nato dal fatto che le quattro ceramiche rappresentanti i quattro rioni del paese sarebbero dovute essere appese nelle pareti interne della chiesa. Tutto stava filando liscio fino alla richiesta da parte del presidente della giostra dei rioni, Roberto Parnetti, di citare durante la messa il ceramista che le ha realizzate. Eh ma queste cose voi dovete mandarmi un testo, devo approvare la curia. Dico ma come per ringraziare? E in quel frangente il parroco mi ha detto, mi ha lasciato basito, prego si accomodi fuori. E ci ha letteralmente fatti uscire dalla chiesa a me e poi le altre 5-6 persone della giostra, tra cui anche questo muratore che non essendo anche di Olmo, anche lui insomma un attimino è rimasto basito. La lite sarebbe poi proseguita nel cortile e qui il parroco avrebbe strappato di mano il cellulare ad una parrocchiana. La donna stava riprendendo con il suo smartphone quello che stava accadendo. Alla fine è intervenuta persino la polizia, al momento dell'arrivo dei poliziotti. La donna aveva riavuto indietro il suo cellulare e ha deciso di non sporgere denuncia. Qualcuno ha addirittura chiamato anche il 118. Ho mandato un'email a sua eccellenza al vescovo per chiedere un incontro urgente, per cui io qui a Olmo ci sono nato, ma come tante altre persone, sentirsi dire vada fuori dalla chiesa, insomma, siamo rimasti male.